A certamenti al via sul prezzo della benzina, la Guardia di Finanza sta verificando se vi siano eventuali manovre speculative. Su delega della Procura della Repubblica di Varese, le fiamme gialle sono andate nelle sedi delle principali compagnie petrolifere italiane a Roma, Milano e Genova per, si apprende, acquisire varia documentazione. La Procura Varesina ha fatto partire le verifiche dopo aver ricevuto un esposto del Codacons e in una nota la Finanza spiega di aver deciso di valutare se gli aumenti del carburante siano falsati da comportamenti penalmente illeciti, tali da configurare il reato di manovra speculativa su merci. Quindi è stata disposta l'acquisizione nelle sedi legali delle principali compagnie petrolifere italiane a Roma, Milano e Genova di tutta la documentazione sull'origine e l'andamento dei prezzi del carburante e della ragione delle variazioni in aumento e in diminuzione per il periodo compreso tra gennaio 2011 e marzo 2012. Ieri la benzina ha segnato un nuovo record arrivando a un passo da 1,90 euro al litro, una continua rincorsa che secondo Fetter Consumatori e Adusbef porta alle casse dello Stato 9,8 miliardi di euro all'anno. Il Codacons stima in 430 milioni di euro la stangata che gli italiani troveranno nell'uovo di Pasqua su questo fronte. In media, per il pieno, si spenderanno 18 euro in più rispetto a Pasqua 2011. Ha preso posizione anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Il presidente dell'antitrust, Giovanni Pitruzzella, ha proposto di creare un sito internet dove vengano inseriti quotidianamente tutti i prezzi della benzina praticati alla pompa zona per zona per permettere al consumatore di individuare il prezzo più basso richiesto vicino casa. Da un anno a questa parte gli aumenti si sono susseguiti a ritmo vertiginoso. Dal 1 marzo 2011 ad oggi la stangata per gli automobilisti ammonta a 516 euro. In poco più di un anno, calcolano ancora Adusbef e Feder Consumatori, il rincaro è stato di 43 centesimi al litro, corrispondente a una ricaduta di 516 euro in termini annui per l'automobilista. Per il gasolio la legnata è di 504 euro all'anno.